educazione. Ombrelloni chiusi per due ore negli stabilimenti balneari contro la direttiva europea che impone nuove gare. Lo sciopero di oggi ha diviso le sigle sindacali ed è guerra di cifre. Vogliamo regole certe, comuni e adesso anche celeri. Aspettiamo con fiducia che il governo adesso metta mano a questa legge che metta sicurezza tutto il reparto. Primo giorno di sciopero per i balneari ed è già guerra sui numeri sull'adesione. Divisi i sindacati, FIBA confesercenti tra le associazioni che hanno organizzato la protesta, fa sapere che la partecipazione è stata di gran lunga superiore alle aspettative, con oltre l'80% delle adesioni. Per il Codacons si è trattato di un flop. Al centro dello sciopero il nodo sulle concessioni balneari. Noi chiediamo chiarezza al governo. Siamo in questo impasso oramai da troppi anni. Non abbiamo certezze sulle concessioni e sul nostro futuro. Vogliamo far capire che siamo stanchi, vogliamo certezze per le nostre aziende. Sono anni che aspettiamo che finalmente si parli del tema e lo si risolva. Per Assol Balneari, Feder Balneari e CNA l'iniziativa è stata un flop, sfilandosi così dalla contestazione che divide anche i bagnanti. C'è chi è arrabbiato. Cerchiamo di comprendere, però non va bene. C'è assolutamente un disservizio che si crea. Noi non abbiamo colpa, abbiamo diritto di avere quello per cui paghiamo. E chi trova soluzioni alternative? Vado nell'acqua, vado a fare una passeggiata nell'acqua, guardi ma dove sta il problema. E qualcuno, invece, sostiene le scelte dell'Europa. Quando un proprietario di un lido ha 200 ombrelloni, a 1000 euro l'uno, e mi paga durante l'anno una tassa minima, non è giusto.